Ciao ragazzi e bentornati qui al mio canale per un nuovo appuntamento con Richard Burns Rally Siamo oggi a North Umbria con la Peugeot 2006 Ci avventuriamo qua in questa tappa di rally sullo sterato Abbiamo visto che bella verniciatura rossa che abbiamo oggi E via si parte sullo sterato Vai su con le marce Contro sterzo per salvarci in corner Dobbiamo anticipare le curve qua Se vogliamo avere un bel ritmo Altro che gran turismo Questa qua è una simulazione vera e propria ragazzi Due tempi Non è mica facile sullo sterato L'aderenza bassa Sinistra 3 Non scagliare Sinistra 3 Giù in seconda Sinistra 5 50 Destra 2 più Destra 5 Destra 3 Non scagliare Sinistra 4 Sinistra 3 Due tempi Sinistra 4 Sinistra 4 Destra 2 più Non scagliare Destra 4 Perdi il stil 100 Sinistra 3 Destra 4 Destra 5 Sinistra 3 Non scagliare Destra 3 Cato il bordo strada E andiamo Su rete linea A tutta 100 200 all'ora Tornante destro Grande Grande così Contro sterzo Ammazza Sinistra 3 Subito il ponte stretto Sinistra 3 Ponte stretto Grande Sinistra 3 Lunga Un ciliale Questo percorso Grandissimo Destra 3 Non scagliare Non tagliamo No Sinistra 2 più Non scagliare Destra 4 Sinistra 2 più Occhio destra 2 più Chiude 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 Sinistra 2 più Sinistra 4 Sinistra 3 Destra 2 più Non scagliare Sinistra 5 Destra 3 più 30 Ponte Ficelli Via Sinistra 3 Chiude 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 Destra 2 più Due tempi Sinistra 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 4 Sinistra 3 Sinistra 4 Sinistra 4 Non scagliare No No Vai 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 su qua Vai su qua Bene bene Sinistra 4 Il ponte stretto Sinistra 2 più Sostanza Mazza che Percorso Uh Destra 4 Chiude Destra 2 più Due tempi Non scagliare Non scagliare Sinistra 4 Sinistra 3 Sinistra 4 Sinistra 3 Sinistra 4 Due tempi Sostanza Sinistra 3 Due tempi No 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 Dai 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 Niente da fare Bisogna chiamare Aiuto Aiuto Chi vuoi Roma Nord Senti a svegliare Dai Perché non parti Niente Spento il motore Veno male Che si è riacceso Sinistra 5 Ancora Pazzamu Destra Sinistra 5 Destra 3 Lunga Fonte stretto Sinistra 4 Cento Quanto è lungo sto Lunga lunga Tracciato Sta tappa La tappa eterna Sinistra 3 Di North Umbria Destra 2 più Più Sinistra 4 Sinistra 4 Due tempi Sinistra 2 più Più Sinistra 4 Sinistra 4 Sinistra 4 Sinistra 4 Sinistra 4 Sinistra 3 Qui Con il rally Sinistra 2 più Sinistra 2 meno Non ho mai visto un youtuber che avesse fatto sta tappa qui In mezzo In mezzo In mezzo Ai campi Di Bosco Prena Prena Destra 2 più Lunga lunga 80 Sinistra 3 Sinistra 3 Sinistra 3 Più Siamo quasi arrivati Miracolo Grande ragazzi Ciao a tutti Eccoci qua Arrivati Ragazzi Oh Facciamo un po' di replay Avete visto che sfida che abbiamo vissuto insieme qui con il rally Aspettiamo adesso che si carichi un po' di replay e poi con la musica di Umberto Tozzi ci godiamo questo pezzo di rally Abbiamo messo 7 minuti ci abbiamo messo 7 minuti e 7 secondi 4 minuti più lenti del record di tappa Però l'inizio Guardate che inizio Promettentissimo E vai Primo insidio qui questa curva a destra E si sale ancora In discesa con Eva Mentre qua abbiamo la prima uscita fuori pista Come vedete la dinamica di questo posto dai Mentre qui vediamo le pecore Le pecore Pascolando Quello che mi piace di Richard Penzrelli è la naturalezza Del paesaggio Disegnato veramente molto molto bene E con queste immagini Queste impressioni qui ragazzi Ci salutiamo E grazie per avermi seguito Spero che vi sia piaciuto il video E per il resto ci vediamo molto presto con la prossima puntata Magari con F1 2017 Per la gara A Sochi Ci sta aspettando Grazie ragazzi E se vi è piaciuto lasciate un like E ci vediamo presto Alla prossima Ciao Ciao Dara Alonso Baci Ciao 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 Grazie a tutti.